Pronti? Uno, due, tre. Partiti. Astecadimare, zero gravity, veloci in avvio, si sistema subito in corda Zillafont. Si imbocca la prima curva con Astecadimare al comando. Zero gravity all'esterno, la corda Zillafont, poi Zico. Quindi ancora Striker. Passaggio davanti alle tribune. Astecadimare al comando. Seconda posizione per Zillafont, mentre di fuori avanza Zico che ottiene il via libera. Passa a condurre, dopo 400 metri di corsa, passati in 29.9. Al comando Zico, di fuori Striker. Lo steccato rimane a Stecadimare che precede Zillafont. Eclare Magic in seconda pariglia all'esterno, poi Commander Lake, quindi zero gravity. Mentre alla retroguardia rimane Today Winner. Si vanno a completare i primi 800 metri di corsa con il battistrada che rallenta 1.1.3 per il mezzo miglio iniziale di Zico. Che ora ha fermato praticamente di passo quando siamo al completamento del primo chilometro. Striker ovviamente di fuori non ha interesse a far implementare il ritmo all'allievo di Vincenzo Luogo che passa in 1.18.2 il primo chilometro. Passaggio davanti alle tribune per l'ultima volta. Guida Zico su Striker di fuori a Stecadimare alla corda. Poi Eclare Magic e Zillafont ancora con Commander Lake e zero gravity alla retroguardia. Rimane sempre Today Winner Font. Si completa anche la curva di destra, anche questa passata a passo di caccia. Con Zico che controlla, di fuori Striker. Alla corda sempre a Stecadimare, inizia ad accelerare in progressione Zico. C'è stata la rottura di Commander Lake. Condossiamo a 400 metri dalla conclusione. Zico ha sparato una frazione di 14.1 di là. 2-3-3 per i primi 1600 metri di corsa. Con Zico in fuga dal resto della compagnia. Muove in terza corsia Eclare Magic. A Stecadimare cerca di riavvicinare il battistrada che però se n'è andato. Zico che nel finale come vuole viene a vincere pur peggiorando sensibilmente di camminata. Al secondo finisce a Stecadimare mentre per il terzo posto dovrebbe essere ancora Striker. 28.4 da arrivare. Era un rigore e Zico non lo sbaglia. Nel finale forse peggiora un po' di camminata. Vincenzo Luongo si deve accontentare ma il gioco era già fatto. Vincenzo Luongo assegna Andrea Vitaliano al training. I colori della scuderia El Ra per il successo di Zico. I colori della scuderia El Ra per il successo di Zico.